Smart Building, approcci innovativi alla riqualificazione edilizia. Questo il titolo del workshop organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con Action Group, svoltosi giovedì 5 giugno 2014 presso il Centro Congressi Torino Incontra. L'evento è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per 6 crediti formativi professionali, a valere per il triennio 2014-2016. Il progettista può scegliere noi perché noi le diamo un supporto tecnico sulla produzione dei nostri prodotti, in tutti i dettagli dei seramenti, delle porte e produciamo soprattutto su disegno, quindi se ci danno un disegno in mano noi siamo in grado di produrre il pezzo su misura per il progettista. Oggi presentate un prodotto in particolare? Presentiamo il prodotto di lamellare con il sughero interno, per avere una trasmittanza termica al di sotto dell'uno. Al prossimo episodio